Buongiorno a tutti, oggi parleremo della guerra del Kosso, fu un'operazione della Nato, un'operazione che nacque anche senza la benedizione per così dire di una risoluzione delle Nazioni Unite e quindi il 24 di marzo del 99 iniziarono dei bombardamenti sull'ex Jugoslavia, io all'epoca ero il comandante operativo delle forze aeree italiane, in posizione vicaria ad un generale statunitense, sappiamo che gli Stati Uniti misero la gran parte delle forze aeree, quindi il comandante era il generale Mike Short, sopra di lui c'era l'ammiraglio Ellis, comandante delle forze alleate del sud Europa e Napoli e il comandante suprema era Wesley Clark che era a Bruxelles, questa era un po' la catena di comando, io avevo ovviamente un collegamento anche con il mondo della politica e nella fattispecie mantenevo contatti quotidiani, anzi delle volte anche più di una volta al giorno con il governo, all'epoca guidato da Massimo D'Alema e la persona con cui invece intrattenevo questi rapporti continui era Marco Minniti, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Iniziamo come detto il 24 di marzo, il 23 facemmo delle prove, mi ricordo due ondate che naturalmente non attraversarono i confini nazionali, giusto per mettere a punto la macchina, per verificare che tutto fosse perfettamente predisposto e non ci fossero inconvenienti come in effetti non ci furono. Di questa guerra non si sa molto, per molti motivi, ma il principale era che fu imposto un embargo totale a qualunque tipo di comunicazione avessimo voluto veicolare verso i media, verso i giornali, che ovviamente avevano fiutato soprattutto questo ruolo italiano nella guerra e però non riuscirono a ottenere notizie, a descrivere le circostanze precise del coinvolgimento italiano. Ricordo che i tentativi giustamente da parte i giornalisti furono molteplici, qualche volta mi sono un po' in imbarazzo, perché ricordo il caso per esempio del capo ufficio comando di Piacenza, che teneva rapporti con i giornalisti, che sotto pressione si lasciò sfuggire qualche cosa e quindi il tenente colonnello Fuochi, così si chiamava, ci sa per rimettere la testa insomma. Ricordo che molto impegnato in questa prospettiva era il sottosegretario Brutti, sottosegretario alla difesa, fortunatamente lo conoscevo personalmente e riuscì a placarlo, il povero Fuochi se la cavò. Però noi facemmo filtrare, adesso lo posso dire, delle dritte per alcuni giornalisti, ce n'erano alcuni che erano molto attivi, uno dei quali è l'attuale direttore di Repubblica Maurizio Molinari, poi c'era il Corriere della sera con Marco Nese, poi c'era Carlo Mercurio il messaggero, questi erano i giornalisti che in qualche maniera sotto banco ebbero le dritte e riuscirono a coprire questo avvenimento in una maniera abbastanza sensata. Una delle cose principali che contraddistinse l'italianità di questo conflitto, perché era variegata come potete immaginare, è il fatto che noi abbiamo fatto questi voli di conflitto vero e proprio fin dalla prima notte, però io come comandante operativo non avevo avuto l'autorizzazione a farlo. L'autorizzazione arrivò solamente il primo aprile, non era uno scherzo d'aprile, era un ordine, erano tre righe firmate dal capo di gabinetto del ministro, l'ammiraglio Di Paola, che io feci fatica a comprendere, perché erano delle acrobazie lessicali talmente ben articolate che francamente ho avuto difficoltà a comprendere che cosa ci fosse scritto, tant'è che chiamai poi i miei collaboratori per vedere se ero io che non capivo e quindi il capo di Stato Maggiore, il generale Gargini dell'epoca, il capo di Stato Maggiore del comando della Nato, il mio astutissimo, sveglio, intelligentissimo aiutante, il tenente colonnello Barontini e anche lui denunciò la sua impossibilità a decifrare questo messaggio, di fatto però mi fu spacciato come l'autorizzazione a intervenire da parte delle forze italiane in questo conflitto. Cominciamo noi anche con i voli più pericolosi, più rischiosi, perché diciamo in ossequio a una banale dottrina, che purtroppo ancora vedo che non è stata acquisita da gente che oggi fa la guerra, appunto il primo passo fu quello di liberare il campo nel limite del possibile dalla difesa aerea avversaria, quindi i primi a partire furono i Tornado e CR cosiddetti, coloro che dovevano sopprimere le difese aeree nemiche, i SEAD e partirono i tedeschi e gli italiani insieme, erano Tornado che avevamo insieme, la cui specialità era posseduta anche da tedeschi, erano basati a Piacenza e le prime notti, le primissime notti furono abbastanza imperscrutabili perché noi non potevamo renderci conto nei fatti quanto efficace sarebbe stata la difesa aerea serba, in effetti non fu difficile renderla inoffensiva completamente, abbattemmo un primo, ricordo ancora molto bene perché fu una scena che non si dimentica, soprattutto da chi ha fatto quel lavoro, l'abbattimento del primo MiG-29 serbo, eravamo in questa sala operativa, in questo CAOC a Vicenza, il CAOC era organizzato su una figura centrale che era il Bat Staff Director, era un colonnello in genere statunitense che era un po' il direttore dell'Oskestra, quindi aveva tutti i collegamenti con i radar, con i gemmer, con tutte le componenti e vivemmo in diretta questo abbattimento, il Bat Staff Director disse clear to engage, quindi autorizzazione ad attaccarlo, passano dai pochi secondi, si sentì la voce del piano, si è splashed, quindi abbattuto e ci fu un'ovazione da stadio in questo CAOC, una cosa abbastanza strana perché probabilmente qualcuno ce l'ha ripreso la vita e festeggiarla in quella maniera così plateale mi procurò un senso, soprattutto a chi non è abituato a questo tipo di scenari, un fatto abbastanza anche sgradevole. Il generale Short, il mio capo diretto, quasi naturalmente provvide ad una separazione delle nostre attività, fermo restando che io ero il vice a tutti gli effetti, però comprenderete come lui non si sia mai mosso dalla sua plancia di comando, alle sue dipendenze aveva tre generali statunitensi che si davano al turno, tre generali con una stella e sotto appunto c'era il Bat Staff Director. Però fu un provvedimento molto giusto, devo dire, anzi è una delle tante lezioni che abbiamo appreso e io dovetti curare un po' le italianità, le italianità di questo conflitto. Mi spiego con qualche esempio. Dopo un po' di tempo, non ricordo esattamente la data, ma insomma alle operazioni già abbondantemente avviate, le bombe rilasciate in Adriatico divennero un problema, perché sapete che quando un velivolo, un cacciabombardiere parte con le bombe e ritorna a casa senza averle sganciate per qualunque motivo, malfunzione, cattivo tempo, non ha trovato l'obiettivo, insomma per questi motivi, non le può riportare a casa, perché deve sorvolare il territorio nazionale dove può accidentemente cadere a bomba, oppure in atterraggio che la cosa più banale potrebbe esplodere, quindi vanno sganciate in luoghi sicuri e quindi c'erano delle aree geografiche sul mare già predeterminate, associate in genere alle basi da cui partivano i velivoli, nelle quali poi vennero sganciate queste bombe o addirittura dalle porta aerei dietro dietro la scia della nave porta aerei. La magistratura si interessò di questa fattispecie di operazione, perché? Perché un peschereccio profeta salpò tre bombette non esplose e maneggiandole diciamo furono feriti tre pescatori e quindi si ipotizzò un reato e quindi il magistrato voleva sapere come mai queste bombe venivano sganciate in mare. La magistratura era quella di Venezia, quindi comprenderete di rimpettaia di Casson, qualcuno ricorderà chi era Felice Casson, quindi c'era questa curiosità che a mio modo di vedere travalicava il desiderio di fare giustizia, c'era qualche altra cosa, qualche altra pulsione che guidava un po' il comportamento di questo magistrato e il primo impulso di Short era di mandare a quel paese la magistratura, stiamo facendo la guerra, non possiamo stare appresso a questa gente. Io conoscendo i miei polli da italiano avevo in qualche maniera percepito che trascurare una risposta alla magistratura poteva far inceppare la macchina e far terminare queste operazioni perché il clamore sarebbe stato così alto e così diffuso che la politica era già traballante la coalizione di governo nell'aver promosso questa guerra accettata, insomma potesse a un certo punto avere tanto di quell'imbarazzo che poteva veramente incepparsi la macchina e quindi mi mise a disposizione la magistratura, fu interrogato non ricordo quante volte, naturalmente non mi fu usato il riguardo, visto che eravamo in guerra, che il magistrato venisse a interrogarmi dove ero a Vicenza, ma ho dovuto cambiarmi, prendere la macchina, il vaporetto, andare nella sede della Procura e ricordo che consegnai dei documenti, naturalmente con degli omissis, che incuriosirono in una maniera abbastanza eccessiva il magistrato, tant'è che gli dice guarda io non gli posso dare questi omissis perché sono segreti, per poterli dare a lei devo ricevere il benestare di altri 12 paesi, eravamo 13 le nazioni che impegnate, la cosa non è fattibile, se lei vuole io le faccio vedere il documento, glielo mostro in originale, lei viene a Vicenza e lui è venuto davvero a Vicenza, si è seduto nel caoc, ha sfogliato il suo documento, se l'hai guardato, poi alla fine la cosa è finita, però questo per dire che se gli Stati Uniti guidano delle operazioni di questo tipo in un paese X nel mondo, è bene che si facciano affiancare da qualcuno di rango che consenta loro di avere una mediazione culturale con l'ambito circostante, altrimenti le cose si possono mettere in maniera tale che poi l'operazione intera fallisce. Detto questo, questo era uno dei miei compiti, quindi quello di gestire la magistratura, un'altra era quello di seguire anche dal punto di vista sociale e politico, l'impatto che l'operazione aveva un po' nel nostro contesto. Ricordo che per esempio ci fu un'occasione in cui la ministro di interni, che era Rosa Russo Iervolino, chiese di sospendere i decolli da Viano perché si stava organizzando una manifestazione pacifista fuori dalle porte e era opportuno non far volare gli aeroplani in quella circostanza. Minniti mi trasmisse questo desiderio del governo italiano, italiano, non fu facile convincere Short a sospendere le operazioni aeree, voi potete immaginare, incomprensibile a loro nella loro ottica e fu l'unica volta forse che dovetti un po' pormi in una maniera decisa con il mio amico Mike poi, dicendo che quello era il desiderio del governo e che non a consentire a questo avrebbe potuto causare problemi più seri e i decolli furono sospesi. Altri decolli per esempio non furono sospesi perché le motivazioni erano meno condivisibili quando il parroco di San Giovanni Rotondo chiese di sospendere i decolli da Mendola, che era al volto vicino, in quanto era la festa di Padre Pio, di San Pio e quindi non era opportuno che volasse e quella volta dovendo soltanto chiedere scusa, ma continuammo nelle nostre operazioni. Questo è un po' un incarico che ho svolto in proprio con un mandato pieno del generale Short a utilizzare qualunque tipo di valutazione, di mia visione dovesse essere necessario nelle varie circostanze. Ecco un altro incarico, questo è interessante anche, che mi fu assegnato ad operazioni già abbondantemente avviate, era quello di tenere il briefing del mattino delle 9. Allora cosa successe? Che all'inizio del conflitto si palesò in maniera molto evidente e anche a qualche tratto antipatica, una diversa visione fra il generale Clark, il comandante supremo, e il generale Short, il comandante delle forze aeree, perché il generale Short avrebbe interpretato l'uso delle forze erotattiche secondo quello che aveva imparato nelle accademie e che quindi di guerra si trattava e che quindi certi obiettivi dovevano essere battuti, obiettivi per esempio strutture dell'energia, delle comunicazioni, cioè lui diceva questo, ma come si fa a fare una guerra quando a Melgrado neanche si rendono conto di essere in guerra? Noi dobbiamo metterli al buio, dobbiamo metterli al freddo, soltanto così si creerà un dissenso verso Milosevic che potrà portarlo a capitolare, altrimenti se noi stiamo a cercare carri armati in Kosovo e quelli fanno manifestazione a Bergara la propria pace non finirà mai, mentre invece Clark era l'idea opposta, cioè che tutte le nostre attività si dovessero concentrare sul Kosovo o andare a caccia di carri armati, praticamente noi cerchiamo di far capire a Clark che un F-16 contro un carri armato, insomma è uno spreco come sparare un cannone a una mosca e magari molte volte anche mancandola e quindi è un dispendio inutile di energie che poi non porta neanche ai risultati voluti. Ecco, su questa doppia visione ci sono stati degli scontri anche abbastanza antipatici, qualche volta anche durante il briefing un po' malcelati, tant'è che un giorno il generale short mi disse senti questo briefing fallo te, perché riteneva di non potersi sempre controllare e quindi come era organizzato il briefing? C'ero io come sto seduto adesso, ai miei fianchi c'era l'intelligence un altro, il vice forse, poi c'erano due panche lungo il tavolo dove erano seduti tutti i senior rappresentativi dei 12 paesi partecipanti, quindi colonnelli o generali, al fianco c'erano delle panche dove erano seduti lungo le pareti gli assistenti di questi senior che erano tenenti o capitani, ecco short si era seduto in una di queste panche in mezzo ai tenenti per ascoltare quello che diceva Clark, perché lui lo vedeva ma Clark non vedeva lui e quindi io quando facevo questo briefing vedevo torcersi sulla sedia, delle volte veramente situazioni abbastanza inconsuete e abbastanza anche qualche volta antipatiche. Di fatto però c'era questo briefing del mattino in cui, ecco questa è una cosa anche abbastanza singolare, in cui più che un briefing, delle volte sembrava un processo, perché noi in quel briefing dovevamo riferire delle 24 ore trascorse di quali obiettivi avessimo colto, di che cosa avessimo fatto, invece la maggior parte delle volte, anzi molte volte, quando accadeva qualche danno collaterale, così lo hanno battezzato e dovevamo rendere conto immediatamente perché dalle capitali avevano chiamato il generale Clark o chi per lui e quindi ci dicevano non che cosa è successo, ma che cosa avete combinato, questo è il primo, tant'è che ci sono state tutta una serie di restrizioni progressive giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla fine in cui noi avevamo chiesto al pilota, quando si trattava di obiettivi per esempio non predeterminati, ma di opportunità trovati per caso dal pilota, il pilota doveva descrivere via radio lo scenario che gli si presentava e soltanto dopo che noi, in particolare il generale a una stella statunitense poteva autorizzare, dava l'autorizzazione, era autorizzata a sparare, altrimenti lui non era autorizzato a sparare, quindi questa era la difficoltà di questo briefing, ecco ci organizziamo e questo fu un altro mio task da parte di Mike Short, perché non potevamo rispondere tutte le mattine, adesso vediamo ti facciamo sapere, avete bombardato quella cosa, come mai avete fatto, dovevamo dare un minimo di risposta convincente subito a caldo, allora organizziamo un piccolo gruppo, erano 3 o 4 persone che procedevano ogni volta che si creava un evento di questo tipo a fare un'istruttoria, che non era semplice, non era semplice perché? Perché il pilota in quel momento stava riposando, aveva finito la missione, non avevamo per esempio il registratore di bordo da cui potessimo ricavare un po' quello che era accaduto, quindi gli elementi per avere delle risposte che potessimo essere al minimo convincenti, pochi elementi, per cui si prendeva la lista del target, il target folder cosiddetto, si andava a vedere dove stava, con quali armamenti era stato colpito, insomma e qualche cosa ogni volta riuscivamo sempre a dare come risposta, però ripeto poi siamo andati sempre attraverso una serie di limitazioni crescenti fino ad arrivare in fondo che dovevamo combattere con una mano legata a dire la schiena o qualcosa del genere e anche questa era una cosa che mi era stata insomma assegnata, tant'è che ho dormito molto poco in quei 78 giorni. Dunque noi come aeronautica militare italiana abbiamo partecipato a questa operazione con 54 velivoli, erano Tornado nella doppia versione ECR e Strikers, cacciabombardieri, avevamo poi dei Tornado ADV per la difesa aerea, avevamo due Boeing 707 per rifornimento in volo, avevamo gli AMX come anche velivoli di attacco, avevamo udite udite gli F-104 e allora questo è stato un problema non da poco, beh no, non da poco eccessivo, insomma è stato un problemino, perché? Perché quando si creano queste coalizioni o Nato o di altro tipo, c'è una sorta di, anzi quello che viene chiamato proprio un force offering, ogni compagno di ventura deve presentare diciamo le disponibilità in termini di mezzi, di armamenti, di sistemi di uomo. Allora si creano delle volte delle ridondanze, delle altre volte invece dei deficit, non solo, ma ogni paese poi mette le sue limitazioni, io non voglio andare a Belgrado, io non bombardo il Montenegro, io in quella zona con questo tipo di armamento non ci voglio andare, e quindi era una sorta di manuale a carte che il povero Short doveva gestire giorno dopo giorno, ricevendo sempre queste, diciamo, sollecitazioni a base dei partecipanti, cercando in qualche maniera, in qualche maniera di soddisfarle. Allora torniamo all'università F-104, ci fu innanzitutto una decisione da prendere in ambito nazionale, la mia persona in particolare, perché diciamo, il velivolo, come era lo stato dell'arte del momento, non avrebbe teoricamente avuto un grande ruolo, diciamo, velivoli ormai virgolette superati. Però d'altro canto c'era un aspetto morale da considerare, in quanto i piloti di F-104, come è noto a tutti, erano coloro che in aeronautica erano sicuramente i più professionali, sotto molti punti di vista, in pratica noi abbiamo detto a questi ragazzi voi siete i migliori di tutti, poi appena c'è una guerra, li lasci fuori. E quindi decidemmo di poterli far entrare e il generale Short poi accettò questa cosa e quindi parteciparono all'operazione e la forza anche loro nella difesa aerea, facevano praticamente delle cap sulla Puglia, avvicendandosi e quindi cercando di dare il loro contributo per abbattere eventuali velivoli incursori, che non ci furono mai, devo dire la verità, perché tornando a quelle fasi iniziali fu chiaro quasi subito che la difesa serba non avrebbe potuto in nessuna maniera impedirci di condurre a compimento tutte le nostre missioni. Abbattemmo, mi ricordo, dei primi giorni tre mig, dopo di che nessuno si alzò più in volo, neutralizzammo tutte le loro postazioni radar, tant'è che consapevoli che il funzionamento di un apparato radar significava ottimamente vedere arrivare un missile ARM che li avrebbe distrutti, ogni tanto accendevano per un paio di battute e poi spegnevano, tant'è che noi molte volte dovevamo bombardare le coordinate, sulle coordinate, perché sappiamo e non sulle missioni radar, questo significa che insomma per fortuna non abbiamo avuto nessun tipo di rischio dovuto alla penetrazione di caccia bombardieri serbi nel nostro spazio aereo. In via di principio però c'era un unico aeroporto dei Balcani da cui sarebbero potuti partire, bombardare il territorio italiano e rientrare alla base. È ovvio che partecipando io al processo di pianificazione delle missioni sollecitare l'inserimento di questo aeroporto fra i primi obiettivi, il cruccio non solo di un italiano ma anche di un pianificatore di operazione aeree era quello proprio di neutralizzare l'unica postazione da cui sarebbe potuto partire un attacco verso l'Italia. Purtroppo questo obiettivo fu possibile batterlo dopo molte settimane dell'inizio del conflitto perché come sapete la lista degli obiettivi che noi, allora come funzionava? Noi concepivamo le operazioni aeree, quindi facciamo una pianificazione a 72 ore, 24 ore si firmava l'ordine, le 48 ore successive si progettavano nuovi obiettivi, questi obiettivi venivano mandati a Bruxelles e da Bruxelles dovevano tornare validati. Molte volte venivano cassati alcuni obiettivi e uno di questi era questo aeroporto famoso, siamo venuti a sapere poi perché, perché era situato in una regione con la quale la Francia non voleva attivare delle inimicizie, aveva un interesse politico e quindi evidentemente questo meccanismo dell'unanimità ci ha colpito fino a un certo punto, poi alla fine siamo riusciti anche a fare inserire, a fare validare questo obiettivo. Questo meccanismo dell'unanimità insieme a quello che dicevo al menù, io vado qui, io vado là, dava molto fastidio a sorte che più di una volta, battendo i pugni sul tavolo, era un tipo sanguigno, diceva la prossima volta da soli, sentiva un po', stava un po' stretta questa camicia di forza della Nato in cui non era libero di comportarsi secondo quanto era necessario fare in quel momento. Siamo partiti avendo contezza degli obiettivi da battere e quindi evidentemente c'è stata una prima fase di operazioni in cui la fase di progettazione è stata piuttosto poco impegnativa, c'era tutti i target folder, tutti gli obiettivi già identificati, segnati, con tutti i riferimenti, con tutte le notizie necessarie per l'equipaggio per poterli cogliere. Però anche in virtù di questa visione di Clark di trascurare, di soprassedere rispetto agli obiettivi che invece in una guerra hanno senso e privilegiare invece gli obiettivi in Kosovo, abbiamo istituito delle vere zone, le abbiamo chiamate all'inizio kill box, poi anche questa parola ha dato fastidio e le abbiamo ribattezzate mi pare Kosovo Engagement Zone, quindi dal kill box a Kosovo Engagement Zone, perché che cos'era? Delimitavamo geograficamente un'area, eravamo e autorizzavamo a battere qualsiasi cosa potesse essere considerato obiettivo militare in quell'area. Naturalmente parlo dei mezzi dell'esercito, carri armati e altre strutture di questo tipo, acquartieramenti, mezzi logistici, etc. I nostri AMX sono entrati in guerra con una brutta fama, diciamo la verità, con la nomea, di essere mezzi non adatti, di essere mezzi con delle tare tecniche che ne facevano un mezzo poco affidabile, invece devo dire che hanno condotto egregiamente tutte le operazioni, nessuno di loro è mai tornato indietro senza aver colpito l'obiettivo, nessuno ha avuto inefficienze tecniche e io facevo un mio piccolo interesse di italiano durante il briefing, perché cosa succedeva? Era vietato, insomma, non era consentito facendo il debriefing indicare il paese di appartenenza del velivolo, quindi un velivolo della Nato, quindi un velivolo della Nato ha colpito un ponte, un velivolo della Nato ha colpito un F15, è chiaro che quando poi dicevo la AMX non poteva essere che italiano, no? E quindi dovendo io riferire nelle 24 ore, quindi parlare degli F16, degli F15, degli a vuoto e degli AMX, ogni volta che c'era AMX in volo non facevo mancare di sottolineare l'esito positivo di una missione condotta a termine, a compimento da un velivolo AMX, quindi italiano, non dicevo italiano, ma in effetti si capiva che era il nostro. Erano velivoli, purtroppo, che non aveva un armamento di precisione, quindi nella progettazione delle missioni dovevamo assegnare loro dei target per i quali non ci fosse alcuna possibilità di danni collaterali, come appunto li abbiamo chiamati e devo dire che sono stati veramente eccellenti questi ragazzi degli AMX. Una volta siamo andati molto vicini a causare un danno collaterale che se si fosse venuto a sapere avrebbe causato certamente qualche imbarazzo, era il terrore un po' di chi da Roma seguiva le operazioni, che ci fosse un incidente causato nel nostro velivolo e un giorno appunto ci hanno andati molto vicini perché c'era un tornado, qui era stato assegnato come target un ponte, abbiamo visto il video di di questa bomba sganciata sul ponte, si vede il ponte completamente inquadrato dal collimatore, si vede partire la bomba, comincia a lampeggiare la luce della bomba che parte, restringe sulla barretta, a un certo punto durante il volo di questa bomba passa un tir sul ponte, si vede immediatamente che il navigatore sposta immediatamente il collimatore quasi spaventato, preoccupato da questo, poi lo riporta sul ponte, passa il tir e dopo un tempo stimato di uno o due secondi esplode la bomba, quindi quel tir l'avrà sentita perché sicuramente l'avrà sollevato anche la parte posteriore perché è stata proprio una casualità che ci ha fatto un po' preoccupare fortunatamente, fortunatamente di tutto questo non è successo, a noi l'aeronautica italiana ne è uscita a testa veramente alta da questo primo vero debutto, oltre a quello che c'era stato prima naturalmente in Iraq, ma la vera prova del fuoco è stata questa, noi abbiamo partecipato a questa guerra con delle forze comparabili un po' inferiore alla Francia, Gran Bretagna, superiore alla Germania, insomma avendo fatto il nostro dovere, però se dovessimo valutare in termini più generali l'apporto italiano sicuramente il nostro sforzo è stato pari a quello della logistica, al fatto che noi abbiamo 19 aeroporti italiani, con tutti poi anche i rischi erano diventate le vere e proprie polveriere, insomma è stato uno sforzo notevole quello italiano che ovviamente però ci ha anche, ci ha aiutato anche nel progredire verso un know-how di conduzioni delle operazioni reali, che oggi naturalmente è un patrimonio della nostra aeronautica, abbiamo arricchito anche in tutte le altre operazioni che si sono susseguite e quindi oggi noi possiamo dire che in caso di appello, in caso veramente si voglia mettere mano a edificare uno strumento nuovo europeo, noi possiamo essere un paese guida in tante cose, in tante specialità, una delle quali è proprio quella di condurre operazioni aeree di questo tipo con una certa familiarità e con una certa professionalità. Un episodio che ricordo con grande piacere devo dire è quello di un pilota di Piacenza, un capitano, eravamo, non mi ricordo se nella prima o nella seconda notte di bombardamenti, forse una seconda e quindi ancora non avevamo contezza di quale capacità potesse avere la reazione serba e quindi era con comprensibile l'apprensione che questi Tornado OCR penetravano prima dei cacciabombardieri. A quel punto telefona al CAOC lì dove eravamo noi un capitano da Piacenza e chiede ragione del perché la sua missione fosse stata cancellata. In effetti noi avevamo cancellato tutta una serie di missioni perché era venuto a mancare un tanker, quindi non essendoci il rifornimento in volo abbiamo dovuto cassare tutta una serie di slot che avranno bisogno invece di essere riforniti fra cui il volo di questo capitano. Passano pochi minuti, arriva la telefonata del capitano e chiede di me, chiede di me, quindi un capitano pilota, come se un prete telefona in Vaticano e chiede di parlare col Papa. Allora io non sapendo ieri prendo il telefono e lui mi dice guardi comandante scusi hanno cancellato la mia missione io ho fatto i conti con il carburante ce la possiamo fare lo stesso. Io a quel punto avendo altro da fare l'ho mandato a quel paese però diciamo è un episodio che io adesso non so se questo capitano vedrà questo 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 mio intervento questo questo film e questo video avrei piacere che si facesse vivo perché poi non ricordo il suo nome non so se l'ho registrato ma fu un esempio veramente che poi anche al freddo ragionandoci no un ragazzo che deve fare una missione rischiosa che non sa che cosa traverà da quell'altra parte e che una volta che gli cancellano il volo lui reclama perché ci vuole andare comunque. Ecco quindi però dopo questi primi giorni quando abbiamo avuto la percezione chiara di quale grado quasi totale di neutralizzazione di difese serbe avevamo potuto realizzare ecco loro si difendevano sparando a salvo praticamente un tiro al piccione faceva un tiro di sbarramento naturalmente non era costante e qualche notte parano 30 40 missili balistiche senza avere una guida con la quale indirizzare verso il bersaglio e molte volte questi missili sono insomma passati abbastanza in prossimità dei velivoli tant'è che con questa tecnica sono riusciti a battere due velivoli un f117 statunitense e un velivolo se non ricordo male belga un f16 belga ecco però di fatto era un tiro al piccione così che ha colpito casualmente e tant'è che nel caso dell'f117 short non sospese voli perché c'era il sospetto che avesse che la sua invisibilità quindi la sua bassa segnatura radar non avesse funzionato invece evidentemente la causa fu quella di essere incappato in un colpo di sbarramento e piloti furono recuperati ambedue e la mattina alle 7 short dice guai a chi parla di questa operazione perché questa è l'operazione più segreta di tutte quelle che abbiamo fatto fino oggi e che faremo ecco perché operazione di recupero in pilota in area di guerra è una cosa molto complessa è un ingranaggio molto delicato complesso che è meglio di svelare perché evidentemente potrebbe poi non andare più a compimento quando quando fosse necessario a vicenza ecco era il cuore vicenza era il cuore pulsante di tutta questa macchina cosa vuol dire il cuore pulsante che noi avevamo l'onere il compito di programmare di concepire programmare pianificare comandare realizzare tutte le missioni di volo va bene e di questo dovevamo riferire all'autorità suprema che era shape che era generale stark generale clark l'ammiraglio ellis però nessuno diciamo al di fuori di questo di questo organismo diciamo di comando e controllo situato a vicenza aveva diciamo la potestà di interferire o intervenire con provvedimenti propri e la macchina era insomma comprensibilmente molto complessa insomma c'erano appunto radar voranti gli avax della nato c'erano i rifornimenti in volo c'erano venevoli jamming c'erano i velivoli del soccorso c'erano i velivoli che facevano combatter protocol c'erano i gemmer come abbiamo detto c'erano i sead c'erano gli strikers eccetera eccetera quindi una macchina molto complessa che doveva girare alla perfezione e lì proprio il punto il centro di gravità tutto questo era questo bat staff director verso cui confluivano tutte queste componenti operative e lui doveva diciamo intervenire per per guidare in maniera appropriata questa macchina e devo ricordare che un colonnello italiano dopo un po di tempo è stato diciamo ritenuto all'altezza di poter svolgere questa questa mansione di bat staff director che ovviamente gli americani molto difficilmente delegavano molto difficilmente delegavano ed è una cosa diciamo della quale eravamo eravamo molto molto fieri e lì a baldazzi il generale baldazzi un ufficiale eccellente che forse forse non ha ricevuto dalla forza armata quello che meritava ecco in termini poi di progressione carriera però diciamo a fare questo lavoro fare la guerra non è semplice non è assolutamente semplice bisogna avere esperienza si possono fare tante esercitazioni no e le esercitazioni sono fatte appositamente per riprodurre questi modelli questi schemi però per quanto sforzo pianificativo si faccia non si riuscirà mai a riprodurre la realtà tant'è che poi questa realtà in cui ripeto gli americani insomma è nessun altro oggi può vantare una professionalità così spiccata anche guerra durante veniva modificata sistematicamente abbiamo imparato tante cose per esempio per esempio una delle apparizioni sulla scena operativa che poi ha fatto vedere quanto importante fosse stata quella dei droni ecco i balcani sono stati il debutto operativo dei droni ne avevamo se non ricordo male 28 di più nazionalità nessuno di loro era armato nessuno di loro poteva portare a termine la missione erano soltanto degli occhi volanti dei quali ci siamo avvalsi e poi appunto strada facendo siamo riusciti ad utilizzarli anche con le armi in abbonamento cooperativo con un caccia che poi sparava e allora andavano in due il drone diciamo cercava l'obiettivo e poi lo faceva mostrare che ricordo un giorno era domenica erano le due del pomeriggio quando un drone vede un caro armato serbo che cammina lungo un sentiero sterrato e poi si infila nella boscaglia e si ferma lì noi naturalmente avevamo un display dove riusciamo a vedere esattamente quello che vedeva il drone e abbiamo assistito per 4 ore 10 minuti fino alle 18 e 10 alla ricerca da parte dei 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 caccia di individuare questo caro armato diciamo imboscato e nascosto noi riusciamo a vederlo ma non era neanche tanto semplice quando veniva qualcuno in sala operativa per farglielo vedere prendevamo il puntatore laser e indicavamo la torretta che era distinguibile a quel punto si vedeva quindi figuratevi un pilota di a10 come fa in volo a riconosce alla fine uno l'ha visto e quindi lo ha neutralizzato spada addosso ecco però abbiamo avuto tutti tutti la percezione di quanto questo sistema poteva diventare significativo nelle nella conduzione di guerre aere no il drone e non solo tant'è che noi abbiamo immediatamente appreso questa lezione e ci siamo portati avanti rispetto a tutti devo dire rispetto a tutti mettendo a punto una capacità di utilizzo degli uav questi velivoli a pilotaggio remoto che oggi possiamo vantare come diciamo primo genitura da quella guerra dei balcani e come lezione appresa e messa in atto tant'è che oggi possiamo dire veramente di essere di primeggiare in europa sicuramente gli altri due paesi al mondo possono vantare una professione che sono prima israele e poi gli stati uniti o viceversa insomma gli altri vengono tutti dopo i francesi purtroppo non so perché ma si sono accorti molto tardi quando erano in mali ricordo che il presidente proprio rimbrottò il capo delle forze armate perché gli servivano in mali e non avevano questa capacità e hanno cominciato anche loro naturalmente adesso piano piano il gap si sta colmando e diciamo ognuno volente o non volente dovrà mettere a punto questa capacità il più grande insegnamento che mi sentirei oggi proprio perché attuale di trarre e di gridare a chiunque riceva questo questa questa queste mie considerazioni è quello che sarà stretta di la camicia di forza della nato sarà pure stretta però c'erano delle regole e le regole venivano osservate da tutti io ricordo un giorno in cui un pilota americano o so bombardare un ponte che non era previsto short sospese immediatamente le operazioni senso lo sospese convocò una riunione di tutti i comandanti di gruppo partecipanti ricordo che erano alla fine erano 900 aeroplani è questo per chi oggi pensa che avendo 16 f16 magari può risolto ribaltare sotto in una guerra 900 aeroplani erano in fondo ecco c'è una dirittura dei bombardieri b2 che partivano dagli stati uniti no arrivavano bombardavano cose tornavano negli stati uniti erano due si incrociavano sull'atlantico 33 ore di volo 19 basi in italia più tante altre disperse nell'europa quindi una macchina da guerra imponente che insomma poi alla fine è arrivata a sprogliare la matassa ma non è stato assolutamente semplice però tornando alle regole proprio in virtù di quel lavoro che ho fatto di investigare tutti i casi di danni collaterali e nell'assunto che non ci sia stato una la perdita di una vittima innocente che milosevic non abbia reclamato e fatto vedere ai giornalisti ecco siamo arrivati a fare un conteggio delle perdite di vita umana di non combattenti arrivando a determinare che sono morte fra le 370 e le 430 persone in 78 giorni di bombardamenti non so se mi spiego e questo grazie all'accuratezza messa nella fase di pianificazione di esecuzione delle missioni dove la disciplina imperava vi ho detto dei comandanti di gruppo convocati e ragguagliati diciamo rimbrottati diciamo all'aviano quel giorno del mare generale short e quindi questo risultato è quello che si deve pretendere in ogni guerra in ogni operazione aerea in cui diciamo la salvaguardia della vita umana deve essere messa sempre in priorità una e vi garantisco che questo principio è stato scrupolosamente sempre osservato va bene in fase di pianificazione e questi queste perdite nella quantità che ho che ho detto così contenuta sono state causate sempre da malfunzioni di sistemi d'arma o da due o tre casi difetti di intelligence ma per null'altro ricordo un giorno ad esempio parlando di malfunzioni che l'obiettivo era un ponte ponte stradale l'obiettivo viene assegnato a due f15 statunitensi passa il primo f15 e colpisce il pilone in pieno pilone centrale il ponte collassa il secondo f15 doveva sparare sull'altro pilone destra vede la nube di detriti che era attiva quindi non spara perché altrimenti la guida laser non sarebbe stata diretta verso il pilone fa un giro e dopo di che spara sul pilone lo centra e muoiono non ricordo quante persone e abbiamo capito che erano i cittadini di un villaggio vicino che avendo sentito il rumore della prima bomba erano andati a vedere che cosa fosse successo e sono rimasti coinvolti nella seconda esplosione ecco questo è il tipo di errori purtroppo che abbiamo fatto del tutto diciamo casuali non voluti e questo è questo è quello che dovrebbe non so come non so come diventare la regola di comportamento nell'utilizzo diciamo della forza però purtroppo ecco l'ultimo esempio di una guerra combattuta secondo le regole quella della libia anche quella è stata una guerra nato da lì in poi è stata una deriva successiva che ha coinvolto tutti tutti nessuno escluso e che ha portato oggi a combattere in una maniera primordiale senza riguardo per nessuno i russi più che gli israeliani anzi sugli israeliani non ci metterei la mano sul fuoco perché conoscono le regole e cercano di rispettarle pur essendo quasi inapplicabili in quel contesto però le regole conoscono i russi no i russi le conoscono forse ma le hanno praticamente calpestate tutte sistematicamente e temo che questo questa potrà essere la cifra se qualcuno non so come non riconduca non riconduca a rispetto delle regole qualunque non voluta però purtroppo temo inevitabile e confrontazione bellica negli anni a venire io personalmente spero che l'europa un giorno possa farsi paese guida in questo e quindi nell'opera prima o poi meglio prima di edificazione della difesa di una difesa europea e di un conseguente esercito europeo possa mettere il rispetto di queste regole al centro di ogni pensiero di ogni comportamento e di ogni organizzazione e di ogni diciamo formazione degli equipaggi e di tutto il personale grazie a tutti